Concludiamo la nostra rassegna dei vincitori dell'Oscar italiano del cicloturismo col terzo posto conquistato per la regione Veneto dalla ciclabile Treviso-Ostilia. È tra le maggiori arterie del cicloturismo in Veneto e facilita i collegamenti con le altre piste ciclabili, come la ciclovia Gira-Sile, la ciclovia della Riviera Berica, l'Anello dei Colliogani e la ciclovia del Brenta. Grazie a tutti 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 La vita è come andare in bicicletta, per mantenere l'equilibrio devi muoverti. Albert Einstein